La rinoplastica è un intervento ormai cardine, storico per la chirurgia estetica, un intervento che cambia completamente i connotati di una persona che attualmente si è raffinato, si è frammentato in varie possibilità, nel senso che possiamo fare la settorinoplastica, possiamo fare la rinoplastica, possiamo fare la chirurgia solo della punta, possiamo fare il ringiovanimento del naso e la novità più importante è che possiamo fare una rinoplastica anche non invasiva, una rinoplastica medica, sfruttando i filler che sono i riempitivi iniettati con degli aghetti e dei riempitivi dei tessuti, in unione al botulino che può paralizzare alcune porzioni muscolari che incidono sulla mimica del naso, noi riusciamo a fare anche una rinoplastica puramente medica per così dire, oppure tante volte uniamo una porzione di rinoplastica chirurgica e una porzione di rinoplastica medica, quindi con un intervento minimamente invasivo noi riusciamo a cambiare i connotati di una persona. Io sono un sostenitore della chirurgia mini invasiva, d'altro canto la rinoplastica lo è già diventata, perché qualunque intervento di rinoplastica o settore rinoplastica si fa con un ricovero dalla mattina alla sera. L'importante è che ci sia l'ambiente e la professionalità idonee.